Ciao ragazzi, sono da Ranaldi a Viterbo dove ho comprato la mia nuova bicicletta elettrica che è questa qua e adesso vi farò la recensione della mia bicicletta elettrica guardate che belle ruote paragonata insieme ad altre biciclette elettriche sempre made in Italy prodotte dal lato Lombardo guardate che bella linea questa qua è una bicicletta praticamente simile alla mia solamente che ha montato le vere e proprie ruote da Patbike vedete questo è il motore performance line quindi è un motore Bosch diciamo il top di gamma è praticamente uno dei migliori motori elettrici che esiste al mondo questa è la batteria esistono batterie da 400 e nella versione 2015 che costeranno leggermente di più esistono anche le batterie da 500 questo è il computer diciamo che normalmente c'è di serie nei Bosch e esiste questo vedete il comando si gestisce sia da qui che da qui e esiste la versione quella un pochettino più top diciamo esteticamente più divertente che è la mia vediamo se riesco a farvi vedere un pochettino il display che caratteristica può avere il display si può comandare anche la luce però questo è un modello che riproduce una bicicletta tipo una mountain bike quindi l'hanno fatta senza luce e senza cavalletto e senza l'attacco per il portapacchi e io comunque invece metterò lo stesso un cavalletto ho trovato delle alternative metterò un cavalletto e metterò un portapacchi perché questa bicicletta anche se è questa forma diciamo così da mountain bike la utilizzerò anche per fare cicloturismo e quindi metterò un cavalletto qua avanti in particolare della tule per mettere due borsa avanti un bel cavalletto che si aggancia qua che mi vedrete montare che va dietro e che poi scarica il peso qua sul laterale andiamo a vedere il navigatore vedete mappa di navigazione gli do l'ok e vedete dov'è che mi trovo posso comandare tutto anche da qua vedete man mano che io muovo mi fa vedere questo ad esempio quanto ho risparmiato da quando ho comprato la bicicletta rispetto a un'automobile e quindi quanto risparmiate andare in giro in bici rispetto a un'automobile ho risparmiato un euro da quando l'ho comprata poi la velocità dalle medie dal livello della batteria muovendo il dito questo qua muovendo questo vedete che cambia il livello di assistenza da tour ma ecco che sarebbe economica spenta se no spingo sport e turbo e in questo modo io muovendo questi tasti riesco ad alzare o diminuire l'assistenza cambio Shimano vedete no cambio Shimano freno Shimano secondo te quanto costerebbe una bicicletta non elettrica attrezzata in questo modo allora diciamo prima facciamo una piccola caratteristica c'è freno Shimano telaio in alluminio forcella ammortizzata con autobloccaggio poi abbiamo dei freni a disco sempre Shimano Shimano è una 180 dietro 160 180 dietro 160 vediamo che c'è anche una particolarità uno sgancio rapido che si preme qua si toglie la ruota che è comunque già un'altra cosa che innalza il prezzo diciamo una bicicletta di questo livello qua più o meno sul mercato se non fosse elettrica sarebbe una bicicletta che supera i 1000 euro anche i 1000 e 5 quindi diciamo cambio XT quindi una bicicletta di questo livello questo l'ho cambiato io veniva fornito con un sellino diciamo più da mountain bike più leggero io l'ho messo più confortevole quindi se voi pensate che una bici del genere sicuramente saremo anche sopra i 1500 euro calcolate che c'è una batteria da 400 watt che solo questa qua siamo intorno ai 700 euro un motore che è il miglior motore elettrico che c'è in circolazione e quindi un prezzo del listino il computerino voi pensate che un Garmin cioè costa qualche centinaio di euro e questo è paragonabile per prestazioni perché vi dà il navigatore vi dà di tutte le informazioni di quanto consumate voi in calorite e quanto e quanto il computer ci ha messo sopra quindi è paragonabile anche questo qua se voi pensate nell'insieme 2.990 di listino è sicuramente la Lombardo ha un buon rapporto qualità prezzo le ruote ecco qua queste qua sono quelle di serie qualcuno mi dice ma siccome non vai fuori strada come mai c'è questo tipo di ruote qua allora ragazzi io vi dico che c'ho io c'ho un SUV un mini SUV insomma la Cascai è un mini SUV e uno dice quello che si riceve una volta era ma se tu non ci vai fuori strada che ci fai col SUV però quando vai sul SUV dici lo sai che ti dico io non ci ritornerei più con una macchina bassa perché con una macchina alta hai un tipo di visione è questione di sensazione di piacere di guida che una macchina bassa non ti dà con le ruote dopo tre giorni di prova ragazzi vi devo dire che la ruota grande in discesa ti dà anche sulla strada la mia tutta una strada ti dà una sensazione di sicurezza di guida un po' come se uno ci avesse il motorino perché alla fine quando vai 100 kg peso io e 20 kg mi pesa la bici vado invece che con le routine della bici da strada vai con una ruota del genere c'è un senso di controllo di piacevolezza di guida che vi devo dire che non so pentito di essere nelle fatte cambiare è una giusta guida di mezzo secondo me le fatte bike forse sono un po' troppo sono un po' troppo eccessive se uno la usa tutti i giorni ma invece la ruota grande questa qua che sto usando io tra l'altro è di serie pensate anche la componentistica delle ruote guardate questa è la marca che di solito uso nei cicloturisti che è una marca già molto buona la migliore secondo me dei copertoni e quindi almeno se devo valutare io come utente sono molto soddisfatto di questo tipo di ruote qua vanno un po' meno veloci però c'è la parte elettrica che sopperisce al fatto che è una ruota meno scorrevole quindi che me la sono fatta fare la bici elettrica per sopperire a quello che sono le mancanze fisiche allora vediamo state due biciclette ci dice qualcosa adesso le due biciclette sai più o meno quanto costano? questo è 2003 con più o meno di listino quindi 29 per la porta 29 per la io hanno tolto il proteggi catena hanno però in questo caso questa sta in pieda sola quindi come l'ha fatta sta in pieda cavalletto quindi in questo caso ci hanno messo il cavalletto nella mia invece vedete nella mia invece il cavalletto non ce l'hanno messo però qui invece il cavalletto ce l'hanno messo e pure un cavalletto di buona qualità e qui più o meno si è equivato in questo c'è uno scatto uno scatto due trezzi in più perché al motore performano anche questo qua quindi anche questi qua hanno i motori i motori bosch diciamo quelli là che ti fanno divertire quelli che pur essendo 250 watt quindi completamente al norma anche su strada però tirano fuori un potenza al metro watt newton mi sembra si scrive un pochettino più elevata allora queste qua sono la serie con le mountain bike andiamo a vedere il cambio in particolare che cambia solamente da una parte perché nelle bici elettriche non si può cambiare sul rocchetto centrale che è tutto quanto collegato qua nel motore ora facciamo una differenza fondamentale per le biciclette elettriche è molto importante che il motore sia al centro e non sulla ruota perché la potenza espressa dal motore è comunque nominale di 250 watt ma essendo qua al centro il sensore è un sensore di potenza quindi se voi esprimete 10 watt questo inserendo qua il fattore di moltiplicazione ad esempio turbo lo moltiplicate per due volte e mezzo mi sembra quindi è come se fosse 3 a pedalare però quando voi esprimete una potenza di 10 che ne so ne arrivano 30 sulla ruota però quando calate sulla ruota arrivano meno e questo dà una naturalezza un piacere di guida che praticamente non riuscite ad avere simile con le biciclette che invece hanno il motore sulla ruota perché in quel caso il sensore percepisce solo il movimento quindi o voi vedate per davvero o per finta quello esprime la stessa potenza la sensazione qual è? è che voi vi trovate su un motorino elettrico uno dice vabbè che mi interessa a me basta che la bicicletta va se siete su questo livello di considerazione ci avete ragione e potete anche comprare biciclette da 1000 euro mentre quando voi volete biciclette con il motore che sono al centro si parte dai 2000 euro però la differenza è enorme perché al momento che voi state sopra la bicicletta avete una sensazione di naturalezza vi sembra di stare su una bicicletta normale e voi siete più potenti invece quando andate su una bicicletta che ha il motore sulla ruota e quindi il sensore è di pedalata percepisce solo il movimento ma non quanta spinta date quindi non c'è una proporzionalità tra il vostro sporzo e il risultato che ottenete la sensazione è di trovarsi su un motorino elettrico ma andiamo all'interno a vedere qualche altra bicicletta sempre elettrica sempre lombardo magari una versione più cittadina un'altra